In Campania il progetto scientifico per lo screening neonatale delle malattie metaboliche ereditarie è partito nel 2007 e con orgoglio devo dire che siamo stati una delle prime regioni, prima di noi hanno iniziato la Toscana, il Veneto, la Liguria a partire con un progetto scientifico. Allora appunto era un progetto scientifico perché non esisteva una obbligatorietà di legge quindi nel 2007 c'era un'obbligatorietà di legge per tre screening neonatali che erano l'ipoteroidismo congenito, fibrosicistica e fenilchetonurea con una situazione un po' eterogenea sul territorio nazionale perché allora c'erano delle delibere regionali appunto in Toscana e in Veneto con l'obbligatorietà per gli screening delle malattie metaboliche. Poi nel 2016 abbiamo avuto una legge nazionale che rendeva obbligatori gli screening neonatali per le malattie metaboliche ereditarie con ingresso nell'EA degli screening neonatali nel gennaio del 2017 e quindi ovviamente la nostra regione poi ha recepito questi obblighi di legge e quindi abbiamo insieme con tutti gli altri attori del percorso di screening fatto una delibera regionale che appunto definisce bene quali sono i compiti dei diversi attori del percorso di screening neonatale. Quindi noi oggi articoliamo lo screening neonatale che ovviamente parte dai centri nascita, quindi con la nascita del bambino. I centri nascita eseguono un prelievo dal tallone del bambino tra le 48 e le 72 ore di vita del bambino e raccogliamo ogni giorno i cartoncini che vengono portati alla nostra realtà che è il Change che appunto la delibera regionale ha costituito centro unico di screening regionale. Quindi noi oggi a parte le malattie metaboliche facciamo anche lo screening per l'ipoterismo congenito e per la fibrosi cistica. Noi eseguiamo quindi il test di screening e poi ovviamente ci sono gli altri attori che sono i centri clinici di riferimento regionali che prendono in carico eventuali neonati positivi allo screening. Quindi questi sono un po' gli attori che prendono parte al percorso di screening neonatale. I dati del 2019 ci dicono che noi abbiamo analizzato 48 mila neonati. Quindi diciamo viaggiamo su una media di 50 mila neonati all'anno se facciamo i calcoli dal 2007 ad oggi. Per cui insomma possiamo fare facilmente il calcolo rispetto agli anni che sono intercorsi dal 2007.